La Torres femminile vince ancora e allunga la striscia di vittorie consecutive. Ieri successo di misura sul campo dell'Aprilia per 10-0. Grande la prestazione coraggiosa delle ragazze di Mr. Arca, che salgono a quota 40 punti in classifica a braccetto con Arezzo, prossimo avversario nel match clou di domenica prossima. Le rosso-blu partono subito bene, sbloccando il match, già nel primo tempo allungano e chiudono sul 3-0, con le retti di Blasoni e la doppietta di Marenic. Alla ripresa c'è solo una squadra in campo come nel primo tempo e subito arriva il poker sassarese. La Torres non si ferma più e continua ad andare a segno con il suo bomber Gomez, che ne fa 3 e a fine gara il suo bottino arriva a 19 reti, blindando il primo posto nella classifica a cannonieri. Le altre reti sono di Borg e Marenic, anche lei tripletta, e la doppietta di Bassano per il 10-0 finale. Con i tre punti fondamentali ottenuti nella gara laziale di ieri, le rosso-blu ora si preparano alla sfida interna contro l'Arezzo, per stabilire chi continuerà ad inseguire da vicino la capolista Bologna. Grazie a tutti.